Credo che le sappia, dottoressa, che la clinica è aperta da poco. Dalla fine degli anni Sessanta è nel totale stato di abbandono. Io la ringrazio perché davvero sarei onorata e felice di lavorare qui. Grazie. Angioletto Santo, stammi vicino. Angioletto Santo, stammi vicino. Dammi la mano che sono piccino. Dammi la mano che sono piccino. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dove sei, mamma? Stai tranquillo. Le mamme arrivano domani mattina, quando arriva il sole. Anche la mia mamma? Certo. Lei sa chi è la madre del bambino ricoverato nel letto numero 6? Non c'è nessun bambino ricoverato nel letto numero 6. Amore, bambino, sono tutti uguali, si somigliamo tutti. Cristo Santo non è una somiglianza, lo stesso sguardo è lui. Ma Bianca, ragiona, quella foto è del 59. Il tuo bambino dovrebbe avere 70 anni. È certo. Sei tu. Sei tu. Non c'è nessun bambino. Non c'è nessun bambino. Non c'è nessun bambino. Il bambino del letto numero sei! Siamo stati noi. Noi l'abbiamo risvegliato.